Ciao a tutti, bentornati a questo prossimo video, purtroppo lo devo rigirare per la seconda volta Faccio il salto una giornata, no? Per questo video vlog del merito della spesa al mercato sono in cameretta, perché mi sono trasmetta in cameretta, quindi Ahimè, ho fatto un grande grande errore di formattare la SD quando io faccio il video Vado a formattare perché mi si è cacciato il video, quindi vi faccio vedere cosa ho comprato Il classico pollo con le patacchine e arancine, speso 11,80 euro Intanto arriva qualcuno a mia conoscenza Ciao fulmine, ciao Poi ho comprato le spugne 1 e 2 Per la bagliatti, sono quasi finite La gomma magica, che è stracomoda con mago merlino E' veramente comoda, toglie anche l'indelebile dei pennelli E' un'acciaio, scendi Questa qua è una figata su, deve fare pulizia Poi pulire l'acciaio, come diventano belli Poi ho comprato anche Guardate Lo ho messo di qua Le foto sono in cucina Queste ve le devo farvi vedere Vabbè, in giro non è stata proprio una giornata micidiale Cerchietto numero 1 Bellissimo E' così Infatti vedete le foto con cerchietto tutte così Ve lo dico già chiaro 1 euro al cerchietto, quindi ho preso 8 euro Vedi che bello Ce lo potevo non prenderlo Li sono arrivati nuovi Non ho approfittato Per prendere quasi No, lo ho preso tutti Quelli nuovi Poi c'è questo Salmone Aspettate che Così, carino Più arancio Un arancio salmone Poi Rosa parla Bello, è scicoso E' anche glitterato Ma più o meno Mi sembra una coroncina Così è dentro Questa è rosa Aiuto, mi si è incassato Con i nettini Arancione, rosa Questo è quello verde Poi c'è questo qua Coroncina Con lo grigio perlo Bellissimo Così è scicosissimo E' quello azzurro E' quello qui Carinissimo Bellissimo Guardate questi qua Saffovigliano Sì, si vede anche l'azzurro Ok Rosa, verde, azzurro E arancio Grigio e rosa Sono uguali E questi due qua Verde e viola Verde acqua E viola Bene Per questo video è tutto Noi ci vediamo un po' Su un video Tanto questo qua Esce stasera Insieme alle foto del pollo Iscrivetevi al canale Se il video vi è piaciuto Mettete un like Condividete se volete E noi ci vediamo In un po' Su un video Perché adesso esce un altro video Video recensione E vi aspetto Ai prossimi video Ciao